Bene, senti il pubblico che ci sta osservando. Siamo in un nuovo treo musicale, in Sala Moia e siamo qui. Allora, al guitar abbiamo, si presenti? Stefano, detto il maestro, qui abbiamo Righetti, ci vediamo da Mario, da Mario, grande, e poi qui sono il capo dei coglioni. Io sono qui e per l'occasione abbiamo predisposto anche uno strumento nuovo, il famoso bongolele col mulinello. A sedici anni è partito da Martavotto, a Londra fu mandato che era un giovanotto. Di girare il mondo lui andava a terra, comprava le pelle, lavorava in nero. In tutti i paesi lui faceva a fare, parlando in dialetto non aveva guai. L'azienda poi c'è fatto a San Marino per pagare meno tasse, lui non è credito. Ci vuole tanta pazienza, pazienza, è qui. Ci vuole tanta pazienza perché è un mondo difficile. Quando era in porto la bicicletta, scontando la musica non aveva freddo, se lui passava fuori da una pastizzeria, tra il vasto un bombolone, divorava il vino. A questo nostro amico che gli piace parlare, provateci voi un po' che ho fatto taccere. Ti doleviate tutto roffide e ricalate, la dieta non faccio su, può andare a cagare. E ci vuole tanta pazienza perché è un mondo difficile. Di nuovo! Ci vuole tanta pazienza perché è un mondo difficile. Ci vuole tanta pazienza perché è un mondo difficile. Mi piacciono molto le cipolle in base. E ci vuole tanta pazienza perché è un mondo difficile. Gli piacciono molto le cipolle in base. Che divide con G, come se anche la M. Una cosa ripete dopo tante mangiate. se mi manca qualcosa ve lo comprate 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 Io